AQP sostituisce gratuitamente il tuo contatore con il nuovo dispositivo elettronico SmartMeter. Con AQP SmartMeter puoi controllare facilmente sul display, in tempo reale, la tua lettura e anche il tuo consumo in quel momento. Con SmartMeter comunicare l'autolettura sarà ancora più semplice. Visualizzerai sul display in modo molto chiaro i numeri da comunicare ad AQP. Sul display dello SmartMeter puoi visualizzare in tempo reale anche la portata. Visualizzerai a display i simboli luminosi di Alert. È il simbolo luminoso di informazione generica che sarà accompagnato sul display da un codice informativo di quattro cifre che andrà a segnalare a noma. Vuoi segnalare un problema del tuo contatore? Per ricevere maggiori info puoi consultare il manuale del tuo SmartMeter sul nostro sito www.aqp.it nella sezione clienti dedicata al tuo contatore.